Il concetto di entropia si può analizzare secondo due interpretazioni, due punti di vista complementari. Abbiamo l'entropia nell'interpretazione di Klausius, Rudolf Klausius, e l'entropia secondo l'interpretazione di Ludwig Boltzmann. Nell'approccio di Klausius il sistema termodinamico viene analizzato dal punto di vista macroscopico, mentre invece nell'approccio all'entropia di Boltzmann viene analizzato da un punto di vista microscopico, cioè attraverso le proprietà statistiche delle particelle che compongono il sistema termodinamico.